Io gli ho chiesto la pronuncia corretta del nome ed è Giergy, Giergy Axu, vincitore della finale della Mini. Sei arrivato dietro a Marco Dionisios che è stato squalificato per Jump Start, diciamo, però in tutto il weekend sei andato forte. Sì, io ho visto giovedì e se ho fatto buono tempo, è uguale che Dionisios e non lo so. E ce la potevi fare? È andata. Quindi il campionato tu eri già messo bene? Sì, penso che il campionato io è secondo o terzo, non lo so. Quindi adesso due round per provare a vincere. Secondo te Dionisios è imbattibile? No, no, come non è imbattibile? Solo lui, non lo so, gira tranquillo, è così. Uno stile tranquillo? E tu lo stile come ce l'hai? Io tranquillo no, io è aggressivo, vuoi subito passare. Una volta non funziona, una volta funziona. Vediamo le prossime gare. Sì, sì.